insegnamento a catena cerchio k attraverso marco a cura di vb guida psichica prima di iniziare un nuovo ciclo di riunioni bisogna cercare di scavare entro se stessi e di capire quanto come in che misura si crede in quel che vivete ma non per noi per voi stessi quindi esortiamo tutti ad una maggiore obbedienza alla propria coscienza guida interiore esortiamo tutti ad una conoscenza anche in questo senso vale l'insegnamento della costante consapevolezza di cui sempre vi abbiamo parlato e di cui mai ci stancheremo di parlarvi guida filosofica dovete chiedervi se siamo noi che non esprimiamo bene i concetti o voi che non avete la forza di volerci capire e quando venite alla conclusione che una vostra mancanza dovete chiedervene il motivo entità ospite vi ribadisco che il ladro non è chi ruba perché chi ruba lo può fare in quanto non potrebbe in quel momento agire in altro modo lo può fare e comunque non tocca a noi giudicare perché è giusto che ciascuno giudichi se stesso guida psichica perciò è molto importante che abbiate la consapevolezza di voi stessi di quel che vi induce ad agire a ciò che fluisca in voi quel sentire di cui la verità ha sempre parlato sia pure con diverse modalità agli uomini sorella mistica un giorno ci ringrazierete per queste parole di avvertimento oggi vi sembrano oscure vi sembrano dettate da troppo austeri e severi maestri i quali sembrano ignorare le vostre esigenze reali i ritmi della vita di ogni giorno guida psichica ricordate però che vi amiamo ed è in forza di questo amore che vi parliamo sorella mistica conosciamo le vostre esigenze ed è per questo che ci rivolgiamo a voi guida interiore noi conosciamo le vostre esigenze ed è proprio per questo che vogliamo allontanare da voi quel che voi ritenete essere tali esigenze e che in realtà sono solo vostre fissazioni vostri freni evolutivi il fatto che non veniamo ostacolati in ciò dimostra che il nostro dire corrisponde alla verità di voi stessi entità ospite non veniamo ostacolati in ciò perché vi amiamo è molto importante prendere quel che viene da questa fonte non perché si tratta di una fonte medianica ma perché corrisponde alla verità guida psichica voi sovente avete detto che se v'è uno psichismo non è opportuno seguirlo perché credete si tratti di una perdita di tempo guida filosofica e cosa errata infatti abbiamo sempre affermato che è meglio uno psichismo coerentemente vissuto e sentito che una falsa in evoluta entità e qualora vi sia uno psichismo che può essere di insegnamento quello bisogna seguire e anzi benvenga guida interiore perciò neanche questa scusante vali dagli occhi di colui che voi definite creatore guida filosofica perciò neanche questa scusante valida davanti a voi stessi guida psichica perciò neanche questa scusante valida di fronte all'amore che vi portiamo e che comunque sempre anche qualora fosse uno psichismo vi giunge dai piani più sottili incessantemente illimitatamente limitato solo dal fatto che voi lo percepite soggettivamente e necessariamente in maniera circoscritta ma se vi sembra eccessiva questa nostra precisazione ce ne scusiamo tuttavia diciamo non bocciate a priori gli stimoli che vi vengono dall'esterno perché avranno pure una ragione di esistere perché altrimenti non vi verrebbero posti dinanzi auguriamo che queste parole favoriscano il fluire di quel sentire di cui tanto vi abbiamo parlato e che chiariscano il fatto che in un certo senso anche uno psichismo può essere un mezzo attraverso il quale le creature vengono condotte al progetto spiritico il quale attraverso quella esperienza apparentemente inutile suggerisce loro una via un messaggio un discorso che offre molti aspetti da approfondire per un corretto equilibrio delle varie tematiche morali che la coscienza deve affrontare al fine di costituirsi